Ben trovati, è la sera dell'Epifania, una delle più antiche feste della cristianità. In un primo tempo ricordava la nascita del Salvatore, un Vangelo apocrifo dice che i magi arrivarono il 9 di gennaio, tre giorni dopo la nascita di Gesù, dopo un viaggio durato nove mesi. In Egitto alla stessa data si festeggiava il battesimo di Gesù nel Giordano, opera di Giovanni il Battista che è già esso stesso una epifania, cioè una manifestazione della divinità del Cristo. La Chiesa dei primi secoli intendeva commemorare e celebrare globalmente il 6 gennaio con tutte le altre epifanie che il Cristo aveva dato della propria divina manifestazione ai gentili con l'adorazione dei magi, manifestazione agli ebrei col battesimo nel Giordano, manifestazione dei discepoli, col miracolo delle nozze di Cana, cioè col mutamento dell'acqua in vino. La parola epifania risale al greco epifaneia che vuol dire manifestazione. Epifaneia era una parola già usata dai pagani per indicare gli indizi con cui una divinità faceva sentire la propria presenza in un luogo e in una determinata situazione. In Oriente, pensate, era spesso sostituita da teofaneia, la manifestazione del Dio. Il vocabolo greco epifaneia passò al latino sia nella pronuncia epifania che nella pronuncia epifaneia. Ed è proprio da epifania che derivano l'italiano epifania, l'antico romanesco e l'antico fiorentino befania, che si sente ancora nelle campagne toscane. Da epifaneia e deriva invece il toscano befana. Quindi era doveroso questo excursus linguistico prima di introdurre l'ospite di questa puntata che ha cresciuto generazioni di classicisti, di studenti. Il liceo classico Ernesto Cairoli di Varese, il poeta Silvio Raffo, lo vedete in questa copertina, com'è bello, e qui si manifesta questa sera per la sua epifania nei nostri studi. Grazie, è un onore. Grazie Filippo. Molto adottamente Filippo Brusa mi ha preceduto e vi ha fatto una sintesi molto opportuna del significato del vocabolo epifaneia, un vocabolo greco che ha a che fare con il verbo fainomai, che significa apparire, manifestarsi. Naturalmente non soltanto nel contesto religioso, noi parleremo di epifaneia, indipendentemente dal contesto religioso, ci sarebbe tanto da dire, anche letterariamente parlando, di questa epifania correlata alla religione. Dovremmo andare anche a, se vogliamo, esplorare più a fondo questo che ha detto un gruppo di biblisti piuttosto che un gruppo di altri sulla realtà storica dei magi, ci sarebbe tantissimo da dire. Sappiamo che il vocabolo magi ha anche un etimo antico persiano che significa sacerdote e che avevano a che fare con i riti, insomma il culto di Zoroastro, eccetera, eccetera. Però, come ripeto, a noi interessa vedere, nello sviluppo della produzione letteraria di ogni tempo, questo vocabolo come ritorna e in quali accezioni. Che cos'è una epifane? Beh, ad esempio, se partiamo, non rispettando l'ordine cronologico, non è necessario, da James Joyce, epifani significa un momento, come direbbe Virginia, Virginia Woolf, un moment of being in cui si rivela qualcosa di illuminante. Ecco, l'epifani, ad esempio, nella novella Evelyn di James Joyce dai Dubliners, è quel momento in cui Evelyn, che sembrava aver deciso già di andarsene, di seguire il cuore e di lasciare la sua casa per un'avventura nuova, si rende conto che invece non ci riesce. L'epifani è un momento non necessariamente positivo, di una rivelazione che ti impietrisce anche, ti paralizza. Come dice sempre Emily Dickinson, ci sono dei momenti in cui ti senti come se all'improvviso vedessi per la prima volta la verità e provi un senso di paralisi. Ecco, l'epifani, in senso moderno, in Joyce, ma anche in Virginia Woolf, è un momento di rivelazione. La rivelazione, che è uno svelamento di qualcosa che era nascosto fino a quel momento, può avere dei risvolti importantissimi nello svolgersi degli eventi, nelle scelte che una persona fa, un personaggio. Sempre per citare Evelyn, per rimanere nello spazio del modernismo, poi andremo piacevolmente indietro a rebur, a ritroso. Ecco, il momento culminante nella novella che ho citato, cioè Evelyn dei Dubliners, è quando lei capisce, ha come una visione, ha come una rivelazione. Il vocabolo visione non è necessariamente da congiungersi sempre, da ricondursi sempre alla dimensione mistica. Non è che la visione sia solo la visione di Dio. La visione può essere anche, come nel greco, idea, che poi è diventata che è una parola italiana, insomma, qualcosa che vede la mente, la mente può vedere, può avere una illuminazione, poi lo vedremo anche in Rimbaud. Allora, la nostra Evelyn, che è un personaggio tutt'altro che felice, ha una rivelazione che le fa capire o comunque scegliere di cambiare il suo progetto. Una campana le rintoccò sul cuore, sentì che egli la ferrava per mano. Vieni! Tutti i mari del mondo le si infrangevano sul cuore. Lui la trascinava dentro, la voleva annegare. Con ambo le mani si aggrappò la cancellata. Vieni! No, no, era impossibile. Le mani strinsero freneticamente le sbarre e dal fondo dei mari ella alzò un grido d'angoscia. Evelyn! Evie! Lo vide correre di là dai cancelli, chiamandola perché lo seguisse. E lei non lo seguirà. Questa è una rivelazione, è una epifani della mente. Idem in Virginia Woolf, alla fine del suo capolavoro Gita al Faro, To the Light House, il personaggio a me è molto caro di Lily Briscoe, che è la pittrice ospite della villa. Quando, siamo proprio alla fine del romanzo, lei aveva iniziato un quadro ma era rimasta bloccata e non riusciva a completarlo, lei vede sulla soglia, sulla porta finestra del giardino, la signora Ramsey, che era la luce di quella famiglia, era la signora defunta da tempo, ma lei la rivede, in che senso? Beh, la vede con gli occhi della mente, ancora una volta, e questa visione le dà una grande forza, per cui le arriva la ispirazione giusta per la pennellata finale del suo quadro. E le parole con cui si conclude questo meraviglioso romanzo di Virginia Woolf sono esattamente queste. Anch'io ho avuto la mia visione. Allora, l'epifani è una apparizione. Apparizione è un vocabolo che spesso ritroviamo anch'esso come epifania in un contesto religioso, ma non necessariamente, perché l'apparizione non è soltanto l'apparizione della Madonna o del Divino. Certo, è anche quello in Dante, per esempio, nel celeberrimo 33esimo canto del Paradiso, cosa ci descrive? La visione di Dio, no? Quella è proprio la visione in assoluto. Quando distingue questi tre cerchi, tra i quali balena, poi addirittura la figura umana. Però non è soltanto, ripeto, in un contesto religioso, teologico, che noi dobbiamo inquadrare il vocabolo apparizione, epifania. Può essere benissimo una apparizione che riguarda un essere umano. Certo, un essere umano particolarmente vicino al cuore di chi lo sta vedendo, come quando Dante vedeva Beatrice. Quando Dante vede Beatrice è sempre un'apparizione che lo fa anche stare proprio male. Perché? Perché Beatrice è non soltanto una creatura umana, ma evidentemente lui lo sente, un angelo che lo guiderà per tutta la vita. Anche la parola angelos, che vuol dire messaggero, annunziatore, può essere collegata al concetto di visione. Questa è ovviamente Emily Dickinson. «Angeli, di prima mattina, si possono vedere tra la rugiada, chinarsi, spiumarsi, sorridere, volare. Sono forse loro i germogli? Angeli, quando il sole è più caldo, si possono vedere tra la sabbia, spiumarsi, chinarsi, sorridere, volare, per conservare i fiori che qualcuno ha donato loro». Ecco, qui è anche quasi giocoso il discorso dell'apparizione. Li vuol vedere lei, probabilmente, o di fatto li vede? Apparizione. Dante, in un contesto molto più serio, teologico, una narrazione che ha a che fare con la dimensione religiosa, per forza, quando gli appare Beatrice, il famoso verso «Donna ma parve», siamo nel trentesimo del Purgatorio, quando lui, dopo tanto tempo che non la vedeva, che non tremava alla sua visione, vede Beatrice dinanzi a sé, siamo nel paradiso terrestre, insomma, alla fine del Purgatorio, la descrive come segue. «Donna ma parve», dicevamo, canto trentesimo, sono quei canti che purtroppo a scuola non tutti leggono, perché sono verso la fine. Allora, «Donna ma parve», che è poi anche il titolo di un romanzo di René Vivien, che riprende da qui, così dentro una nuvola di fiori che dalle mani angeliche saliva e ricadeva in giù, dentro e di fuori, sovra candido vel, cinta d'oliva, «Donna ma parve», sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva, e lo spirito mio, che già cotanto tempo era stato, che alla sua presenza non s'era di stupor, tremando affranto, senza degli occhi aver più conoscenza, per occulta virtù che da lei mosse, d'antico amor sentì la gran potenza. Tosto che nella vista mi percosse l'alta virtù che già mi avea trafitto pria che io fuori di Puerizia fosse, volsimi alla sinistra, con il rispitto col quale il fantolin corre alla mamma quando ha paura o quando è di afflitto per dicere a Virgilio «Men che dracma di sangue, mi è rimaso che non tremi, conosco i segni dell'antica fiamma», ma Virgilio ne avea lasciato i scemi di sé. Virgilio dolcissimo padre, Virgilio a cui per mia salute diemi. La visione di Beatrice è talmente folgorante e anche terrificante da produrre in Dante il tremore che già da tanto tempo non avvertiva più. Apparizioni, illuminazioni, altro vocabolo fondamentale per il nostro discorso, qual è la più celebre illuminazione in poesia? Beh, ma è quella del meraviglioso Arthur Rimbaud, quando dice «Elle ritrouvee, qua, l'eternité, se la meramele avec le soleil, l'ha ritrovata, cosa? L'eternità? È il mare che si è fuso con il sole». Questo è un breve frammento di Arthur Rimbaud di una brevità folgorante, ma che fa parte di un corpus, che di solito si ricorda con il titolo di «Illumination», il corpus poetico. Cosa ha visto? Con gli occhi fisici? Beh, con gli occhi fisici e anche con quello che si chiama il terzo occhio, ha visto l'eternità e dice che l'hanno finalmente ritrovata. Ora, questa potenzialità del visus, che è tipica dei profeti, prima ancora che dei poeti, ma si può essere poeta e profeta insieme, la ritroviamo in parecchi del decadentismo, ma già nel grande romanticismo, anche se talvolta è la descrizione di un luogo reale. Cioè, descrivono un luogo reale, però è come se quel luogo reale assumesse per un attimo i connotati di una visione. La bellezza è talmente perfetta che ti fa sembrare quel luogo qualcosa di immaginato, di immaginario, per la sua perfezione. Sto pensando a William Wordsworth nella stupenda poesia sul ponte di Westminster, stiamo arrivando alla conclusione, sul ponte di Westminster, sapete che Wordsworth viaggiava molto volentieri con la sua sorellina Dorothy, di cui non parla mai nessuno, ma che è un personaggio molto interessante. Sul ponte di Westminster, ecco, il testo tradotto in verità non in modo eccelso, ecco, dice nulla di più bello ha la terra da offrire, solo un insensibile potrebbe restare indifferente ad una vista di così toccante maestà. Questa città ora sabiglia quasi fosse un manto della beltà del mattino, nudi, silenti, vascelli e torri, cupole, teatri, templi, saprano ai campi e al cielo, tutti lucenti e nitidi nell'aria senza fumo. Mai sole più fulgente bagnò del suo primo splendore valli, rocce, colline, mai vidi ne provai una così profonda calma. Il fiume scivola, docile alla sua stessa guida, buon Dio, perfino le case paiono dormire e tutto quel forte cuore quieto, riposa. Ecco, Alfred Douglas, che è un grande poeta, benché sia stato sempre, diciamo, sottovalutato per motivi biografici, è il grande amico, amore di Oscar Wilde, in una poesia molto interessante, La Sfinge, descrive questa figura così inquietante, che anche Oscar Wilde aveva descritto in un suo poemetto. Sul Nilo vaga lo sguardo, è di fiamma il sole al suo tramonto, l'Occidente naufraga in onde di porpora, stanco un grande uccello plana, ali di piombo, nero sul rosso fiume, ecco la Epifanea. Il cielo verde e bronzo, a me vicino addormentate barche, non ve suono o sospiro di vento, è la silente quiete della morte. oltre la cima di una palma i picchi delle alte piramidi, il mio sguardo non vi giunge, ma so che sulla sabbia c'è una forma di pietra che grava sul mio cuore, da quell'oscura landa, striscia fin qui il terrore e bisbiglia parole alla mia anima. Visioni più rassicuranti ci sono nella poesia più vicina alla contemporaneità e io ho scelto per voi un poeta che nessuno mai ricorda, che è Diego Valeri. In Diego Valeri c'è la descrizione di una visione molto pura che ha a che fare con un fiore. Quando ti schiudi, fiore divino, assorto è il tempo, fuor di notte e di giorno, l'aria non ha colore, tutto è perduto intorno, tu solo sei, divino fiore del nulla, amore. E infatti come si può parlare di una visione, di un'illuminazione, di un'epifania senza il ricorso al concetto più antico ma anche più prezioso dell'amore, l'epifania presuppone, per ritornare a ricollegarci ai magi, anche un dono d'amore ed è tanto più preziosa quanto più è dettata o comunque quanto più ha a che fare con l'amore. non dimentichiamoci, amore, vocabolo ormai infrazionatissimo, che ha le etimologie più bizzarre, c'è chi lo riconduce come Isidoro di Siviglia, non so, alfa privativo, mors, cioè qualcosa di contrario alla morte, e c'è chi ricorda che ha la stessa matrice etimologica di amicizia, hama che significa insieme. Allora l'epifania, la rivelazione che nel nostro tempo non è più così frequente o così frequentemente cantata, resta qualcosa di meravigliosamente magico e unico, non solo nei mistici che hanno sempre questa propensione al divino, ma anche in chi educhi il proprio sguardo e non si limiti a guardare il telegiornale. Silvio Raffo ci ha regalato un'epifania magica e unica, con questa sua Lectio Magistralis che ci ha donato, ha donato a voi cari telespettatori, il terzo occhio, allora parliamo della visione del terzo occhio di Silvio Raffo che arriva a scorgere cose che noi non vedremmo, non vediamo. Sei troppo generoso, ecco, l'intuizione evidentemente è qualcosa di molto importante, intueor in latino significa guardare in profondità, è quello che fanno veramente pochi anche oggi, no? Oggi, infatti, lo diceva prima Silvio Raffo oggi non solo le epifanie, le apparizioni di qualcosa di meraviglioso sono veramente rare, anche perché tutti sono abituati a ormai ci sono apparizioni oggi, soltanto cose tutt'altro che belle e a sentirne di peggio. L'intuizione va coltivata, è un dono, però va anche molto coltivato, certo che se noi ci limitiamo a guardare quello che ci viene proposto dappertutto a cui i nostri occhi fisici soltanto possono arrivare non c'è molta speranza di salire perché ovviamente si sale e si va dentro intus leggere soltanto quando non ci si accontenta del visibile o del propinato perché sia semplicemente digerito per fini di tutt'altro genere che quelli dell'elevazione spirituale. La visione e il terzo occhio l'intuizione senza andare proprio nelle regioni del sublime la semplice intuizione consiste come l'intelligenza nel guardare attentamente dentro. Dante perché arriva a vedere Dio? Perché continua a fissare sempre di più sempre più intensamente quei tre cerchi e alla fine come dice anche la Dickinson non è rivelazione a essere tarda ma i nostri occhi imperfetti noi magari potremmo averle delle visioni in ogni senso ma non guardiamo attentamente ecco qual è uno dei mali della contemporaneità ci accontentiamo di vedere e di sentire con gli occhi e con le orecchie mentre invece ci sono dimensioni più profonde più vicine alla verità professore noi vorremmo passare tutta la serata con lei non è possibile spenda almeno qualche parola su questo bellissimo libretto che ho in mano e vi propongo questa foto la foto del retro di copertino di Andrea Piacquadio una foto bellissima in questo libricino il giovane dolore in realtà io parlo anche di una apparizione di una persona reale perché a volte gli angeli sono anche persone reali guardate pensate a Beatrice per Dante anche io ho avuto una Beatrice è stata la mia signorina del ginnasio e la descrivo proprio come una apparizione non sarà mica la signorina mera luminosa quella no era prima io ho avuto molte signorine un film in particolare con le signorine allora questa è quella che mi ha proprio aperto gli orizzonti illuminato è stata una vera apparizione ma dal primo momento la signorina di te della tua anima in attesa si impadronino un attimo leggera e più forte d'acciaio la sua presa le movenze sinuose da pantera tra le file dei banchi diffondeva un aroma selvaggio affatturato e la giovane preda si arrendeva come a un irresistibile peccato il peccato della conoscenza di tutto ciò che riguarda l'essenziale mi proveniva da un essere sicuramente non soltanto umano dobbiamo abituarci a riconoscere anche gli esseri che Platone chiamava come Socrate luminosi ci sono non sono tanti ma ci sono quando abbiamo la fortuna di incontrarne uno cerchiamo di riconoscerlo è un'epifania che vale la pena bene su queste parole chiave di Silvio Raffo chiudiamo questo speciale epifania di Rete55 grazie Filippo il luminoso e favoloso buone epifanie grazie Silvio Raffo grazie a voi a presto grazie a voi grazie a voi